Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi ricordo dei musicali più famosi, però questa è la seconda parte e questo vuol dire che i musicali non saranno più quelli in cui si appoggia il telefono ma quelli normali, diciamo, perché sono quelli che non si fa così, quindi vabbè Comunque, quando farò questi video in cui ricordo i musicali di qualcuno vedrò prima, cioè vedrò i primi video in classifica oppure vabbè, poi se devo riprodurre i musicali di Muses che io vi dico già il nome, allora vabbè Comunque, non so se mi avete capito, passiamo al video Allora, ho iniziato già, allora, la scorsa volta in classifica mi sembra che c'erano Lamaino, Luciano Spinelli e Isferari, mi sembra, mi sembra E invece ora ci sono Marco Cellucci, Lamaino e Isferari, mi sembra Vabbè, comunque, passiamo avanti Iniziamo con Marco Cellucci Io non so fare proprio con precisione i momenti che fa lui Infatti, li faccio un po' alla mia maniera Perché nessuno riesce a fare un po' a un'altra persona, vabbè Quindi sì E passiamo avanti, facciamo su mia musicali che poi, ciao Sì 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 I love you, oh yeah! Come una cosa che mi ha visto? Cosa che mi ha visto? Cosa che mi ha visto? Avecca! Che tipo! Avecca! Palla! 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 Anche se è caricato! Ho messo! Devo dire se ho messo tanto! Vabbè! Lasciamo questo video lì! Devo stare in pace! Anche se è uscito male! Quindi infatti non lo posterò! Perché tipo ho fatto... E no! E poi ho fatto così! Tipo così! Avete visto quando ho fatto tipo... Devo controllare! Tipo se ho messo lento! E quindi... Mi sono messo con la testa così! E quindi cioè... Tipo bellissimo! Perché non è che facevo così! Giù! 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 No vabbè! E ora dobbiamo scegliere i miei scritti! Il Sperai! Mi sembra! Si! Che cosa so? Che cosa so? Che cosa so? Che cosa so? And..." Che cosa so? Che cosa so? beh niente ragazzi questo è il video spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like commentate qui sotto scrivendomi che altri tipi di video volete perché non ho più idea cioè farò di versus però devo ancora vedere che versus devo fare e quindi niente al prossimo video ciao oddio al prossimo video ciao al prossimo video ciao